Hanno invaso pacificamente gli studi televisivi e radiofonici di rete 3DGS. Loro sono solo una rappresentanza dei quasi 30 francescani che fino al 27 novembre daranno vita alla missione popolare. Il loro obiettivo non è solo quello di portare un messaggio, ma di entrare in contatto con la gente. Non aspirano altro che all'ascolto e al dialogo. Tante le iniziative che sono state messe in campo insieme al parroco della Chiesa Sacro Cuore Don Franco Liporace che si è avvalso della collaborazione di tutte le realtà che ruotano intorno alla parrocchia e del comune di Praia Mare. Un appuntamento importante per la città dell'isola di Dino che ha accolto con affetto i missionari. La prima impressione è assolutamente buona. Noi siamo pieni di entusiasmo. Già dalla prima serata che ci hanno accolto in tantissimi, sia in chiesa poi anche alla festa successiva. Già abbiamo fatto visita alle famiglie, visita alle scuole. Anche lì c'è abbastanza disponibilità, accoglienza. Questi sono dati per noi già significativi di una comunità che comunque è viva. Andrete anche nei locali, tra i giovani, tra i lontani. Che cosa gli direte? Beh, intanto un invito, un annuncio e uno stare insieme, un partecipare insieme a delle serate e condividere insieme per accoglierci e conoscerci. La cosa più difficile da far capire a coloro che sono lontani. Quello che cerchiamo in genere di far arrivare loro è una cosa semplicissima, però è così difficile oggi da accoglierla che il Signore ci ama e che il suo sguardo su di noi è veramente uno sguardo da padre a figlio. Quindi non c'è differenza, non c'è imperfezione, non c'è limite, ecco, che non è guardato con amore dal Signore. Perché ci rendiamo conto anche un po' nella nostra vita che questo poi, cioè smarrire questa consapevolezza fa creare nel cuore tante durezze e anche il ricorso poi a tanti altri surrogati per essere felici, per divertirsi. Invece, ecco, la vera gioia, quella che non passa, il vero amore, quello che non avrà mai fine, viene da questa consapevolezza di essere amati da qualcuno. Di sicuro incontrerete qualcuno che non crede, qualcuno che vi dirà Dio è morto ovunque. Voi che cosa dovete rispondere? Beh, senz'altro Dio è morto, però per quella persona che lo dice è vivo in questo momento, quindi è far passare in lui o in lei la riscoperta di essere un dono e di accogliere veramente l'amore di Dio e di riscoprirsi anche amati e figli amati. Un invito, un messaggio in piena libertà. Allora, a me viene una parola, accoglienza, nel senso che è un'opportunità che siamo qua, non è scontato che in questi giorni ci siano 30 missionari che girano per le strade di Praia. Ecco, è un'opportunità da accogliere e soprattutto è una scoperta di una gioia diversa. Noi fermiamo la gente, però l'invito è anche di farci fermare, in modo che così possiamo veramente scambiare quella parola che porta l'uno all'altro a una gioia piena. Tra coloro che parteciperanno alla missione non ci saranno solo dei frati, ma anche dei laici, come questo ragazzo di 26 anni. Ho trovato e ho visto l'amore di Gesù nella mia vita ed è questa la bellezza che voglio portare. Diciamo che la mia vita è un po' particolare, però dico che nell'ultimo periodo la morte non può vincere sulla vita, sull'amore. E perciò sono qui per questo, per portare questo annuncio particolare, diciamo. Grazie a tutti.